Buongiorno, il talk show di oggi è dedicato al cibo che cambia il mondo e già si capisce che parleremo di alcune opere sociali. Un desiderato a questo condiviso con la Camera di Commercio di Torino che ha istituito nel 2002 i Maestri del Gusto. Allora erano 50, oggi i Maestri del Gusto sono più di 200. 209 nell'ultima rilevazione, però poi in realtà saranno nominati tra breve dei nuovi maestri, quindi il numero continua a crescere. Chi ha parlato è un collega giornalista Fabio Molinari e con noi abbiamo un protagonista dei Maestri del Gusto che è l'amico Gianni Clot, Giovanni Clot ma noi lo chiamiamo Gianni, che rappresenta la Piazza dei Mestieri di Torino che è una delle più importanti, direi clamorose, opere sociali della città ma poi ne conosceremo anche altre perché i Maestri del Gusto sono orgogliosi di annoverare tra loro queste realtà e in particolare la Camera di Commercio di Torino. Vediamo un video, no? Partiamo proprio con un video che ci hanno mandato i Maestri del Gusto che spiega così in poche immagini quello che è la filosofia dei Maestri del Gusto. Adesso vedremo come. un video dove si vedono le mani perché alla base della nascita dei Maestri del Gusto c'è proprio questo, c'è l'idea di valorizzare un sapere artigiano che ha in Torino e in provincia tutta una serie di esempi, come dicevamo prima, clamorosi. Sono visti già anche alcuni prodotti, qui abbiamo i prodotti della piazza dei Mestieri per esempio le birre, i cioccolati che rappresentano poi scuole ma ne parleremo adesso tra poco con Gianni Clotti invece vogliamo sentire la voce di Dario Gallina che è Presidente della Camera di Commercio di Torino che ci ha mandato un contributo. Un grande saluto agli amici di Golosaria e grazie per aver coinvolto la Camera di Commercio di Torino in questa vostra edizione tutta online ma soprattutto grazie per aver coinvolto i nostri Maestri del Gusto i Maestri del Gusto è un'iniziativa che la Camera di Commercio di Torino insieme a Slow Food e al proprio laboratorio chimico ha realizzato negli ultimi vent'anni e mette insieme più di 200 imprese eccellenti del settore agroalimentare professionisti, artigiani, commercianti dall'A di aceterie fino alla V di viticoltori insomma è il meglio del nostro territorio di cui siamo molto molto orgogliosi quest'anno nomineremo i Maestri del Gusto per il 2021 e 2022 e stiamo realizzando anche un ebook dove creeremo degli itinerari molto gustosi che metterà in relazione i luoghi con la presenza dei maestri siamo presenti anche sui siti social come facebook e instagram e quindi vi invito a seguirci e vi aspettiamo anche per le prossime iniziative grazie mille bene grazie grazie presidente grazie per essere con noi anche quest'anno perché i Maestri del Gusto sono ospiti fissi di Golosaria nella Golosaria cosiddetta fisica che abbiamo fatto fino alla quattordicesima edizione questa quindicesima edizione ha sempre gli stand, ha sempre i produttori la potete visitare perché ormai siete entrati se ci state seguendo e conoscere e andare anche ad acquistare i prodotti dei cento magnifici espositori tra questi c'è anche la piazza dei mestieri allora Gianni Clot, la piazza dei mestieri nasce due anni dopo i Maestri del Gusto perché loro nel 2002 e voi nel 2004 nasce dall'idea di alcuni amici, nostri amici Dario Di Freddi che tra l'altro è uno dei 50 personaggi che io racconto in questo libro del bicchiere mezzo pieno quando nella vita conta lo sguardo cioè quando una storia, la stessa civiltà può cambiare, si può modificare per uno sguardo diverso qual è stato lo sguardo con cui è nata la piazza dei mestieri? Grazie innanzitutto per l'invito devo dire che la storia della piazza dei mestieri è proprio una storia di sguardi e di mani a noi piace dire le mani intelligenti perché nasce da una suggestione e da una ferita si innesta su un'esperienza di formazione professionale di alto livello che aveva però sin dall'inizio come mission quello di avviare stabilmente al lavoro i propri ragazzi e non semplicemente un trasferimento di competenze siccome anche una realtà sociale deve avere un'attenzione ai numeri un'attenzione ad essere veramente impresa per poter durare nel tempo e non dipendere da aiuti esterni che nel tempo vanno e vengono c'è sempre stato un'attenzione forte a misurare l'efficacia della formazione in termini di risultati cioè in termini di impiegabilità dopo il conseguimento della qualifica e dopo l'avviamento del lavoro nei primi anni 2000 succede che ci si accorge che dare delle competenze non è più sufficiente perché il problema della tenuta da ragazzo una volta che l'hai avviato il mondo del lavoro è un problema prevalentemente di educazione al lavoro di solidità della sua concezione di lavoro quando questo viene un pochino intaccato da una storia personale complicata che questi ragazzi si portano alle spalle che è fatta di povertà familiare di povertà culturale di problemi personali per esempio legati ai disturbi dell'apprendimento viene lo struggimento di individuare un fattore aggiuntivo che possa innestare un qualcosa di più rafforzare questa debolezza e quindi abilitare di più i ragazzi ad un ingresso stabile nel mondo del lavoro magari ancora grazie ad un accompagnamento ma che possa essere stabile che non finiscono nei famosi NIT che dopo un po' smettono sia di cercare sia di provare a migliorarsi sia di provare a formarsi perché c'è stato un pre-tentativo prima della piazza dei Mastieri che si chiamava mi pare immaginazione lavoro dove voi formavate i ragazzi i ragazzi trovavano anche lavoro ma poi non mi è suonata la sveglia non si presentavano sul posto di lavoro i motivi più varali e lì avete capito che ci voleva un luogo dove arrivare puntuale perché io non è che ti licenzio però ti richiamo esattamente quel gradino quel salto di qualità che andava innestato su un'esperienza formativa hai detto bene si chiamava immaginazione lavoro ed è tuttora l'agenzia formativa accreditata ma che chiedeva un qui di in più l'idea è stata un'idea se vogliamo è l'uovo di Colombo a vederla oggi è un'idea semplice assolutamente innovativa allora ancora quasi unica oggi in Italia di innestare all'interno del centro di formazione le attività produttive vere parallele ai percorsi formativi che i ragazzi facevano ecco ma per capirci quali sono queste attività produttive vere cioè uno entra nella piazza che è in zona San Donato giusto? giusto c'è anche un quartiere importante vicino a Torino come si chiama? io non conosco bene i quartieri di Torino diciamo che siamo nella semiperiferia quindi andiamo ad affacciarci verso tutta quella zona di Torino Nord che vede poi Barriere di Milano, Falchera eccetera ok ecco uno entra alla piazza e se lo fanno entrare perché c'è una barriera e no è anche aperta al pubblico e immediatamente cosa trova? allora trova una piazza cioè il nome il nome evoca il luogo fisico che era la piazza di una conceria era la corte di una conceria di un'antica conceria poi andata andata in disuso e quindi poi recuperata dal nostro intervento ma che riecheggia il tema delle piazze di una volta alle piazze medievali dove le botteghe si affacciavano e uno non solo imparava il proprio mestiere ma un po' per osmosi imparava una concezione del lavoro della dignità del proprio lavoro e del valore del proprio lavoro allora se mi ricordo bene in quella piazza si affaccia un pub che è anche un micro birrificio cioè dentro producono proprio la birra tra l'altro una birra pluripremiata quest'anno avete ricevuto un sacco di premi che è sul golosario poi dopo c'è una bottega che rivende i prodotti che vengono fabbricati all'interno poi mi pare di fianco sempre nella corte si affaccia una tipografia allora se posso è molto corretto quello che hai detto abbiamo tipografia è un nome affettuoso in onore all'antico mestiere oggi è più un centro di comunicazione integrato perché il primo problema è che la formazione che ricevono i ragazzi e che possano mettere a frutto nell'attività produttiva abbia uno sbocco di inserimento professionale sarebbe assurdo formarli per riavviarli su un binario morto quindi siamo molto attenti a curvare i percorsi formativi in relazione a quello che il mercato del lavoro chiede quindi diciamo una tipografia un centro di comunicazione integrato poi abbiamo una specie di dottor Jekyll e Mr. Hyde che è questo locale che di giorno fa bar di urno normale quindi tutto quello che facciamo è aperto al pubblico compreso quello a metà pomeriggio si trasforma diventa un brew pub serale dove il punto forte è proprio la birra che produciamo in una parte di questo locale e poi in tutta la parte di cantina di maturazione di fustamento e di imbottigliamento che rappresenta una parte importante del seminterrato che compone la piazza poi abbiamo il forno che è un'attività avviata forse l'ultima nata in ordine cronologico che però sta prendendo molto piede siamo inseriti all'interno di Maester Gusto anche con la produzione del pane e addirittura con una produzione specifica messa appunto con loro e poi c'è la parte di cioccolateria pane e grissini rubatà prodotti da forno grissini stirati a mano come si faceva una volta pizza focaccia che tra l'altro diventa anche uno dei modi in cui i nostri ragazzi passano felicemente l'intervallo tra una lezione e l'altra e poi c'è il laboratorio di cioccolateria quindi la bottega semplicemente è come una specie di spaccio delle nostre produzioni interne tu parla perché io intanto prendo il frutto di oggi della produzione di cioccolateria approfittale cioè qui ci sono delle praline fantastiche no soffermiamoci un secondo poi vai avanti perché su questi cioccolati a proposito di Maestri del Gusto voi siete andati a prendere dei maestri perché Torino è la capitale della cioccolateria e avete recuperato dei maestri no che magari finita la loro carriera produttiva si sono messi a disposizione dei ragazzi e guardate cosa c'è qua e adesso ci sarà un buco perché questo lo mangio io vai è come una medaglia al valore un buco fatto con un cioccolatino mangiato da te no volevo riprendere una cosa che secondo me è decisiva ai nostri ragazzi che hanno questa provenienza complicata che scontano uno zaino di prove di ferite di difficoltà offrire la possibilità di collaborare gomito a gomito per brevi ma frequenti periodi e sin dall'inizio del percorso fino al termine con dei maestri di altissimo livello è il primo modo di dire a loro tu vali tu meriti un maestro di eccellenza e devi puntare a dare l'eccellenza di te la sfida tutti i giorni in un'accoglienza dare meglio di sé questo ha fatto crescere tra l'altro anche veramente dei talenti insospettati dal primo approccio cui li abbiamo conosciuti e accolti l'accoglienza è il primo nostro modo di incontrare i ragazzi il secondo è valorizzare le potenzialità che hanno perché da tutta la vita si sentono dire quello che non sanno fare però abbiamo visto fiorire cose insospettate oggi abbiamo dei ragazzi che sono nei punti top da Parigi a Londra all'estremo oriente nei locali dove possono fare o cucina o sala abbiamo dei ragazzi che hanno fatto dei percorsi o di panificazione o di cioccolateria che oggi sono nei migliori laboratori non solo di Torino perché hanno anche accettato la sfida di mollare gli ormeggi andare in mare aperto e vincere anche l'angustia dell'essere vissuti sempre in un contesto ristretto allora qui c'è ce n'è uno che sta uscendo e io e ti chiama no lo tocco però non posso rimetterlo lì anche perché con queste storie quindi lo mangio dici le altre le altre opere che ci sono alla piazza gli altri settori va bene qui mi ero concentrato sulla parte no gastronomica ovviamente perché siamo in un contesto che chiede insomma chiede quello ma l'altro aspetto fortissimo abbiamo toccato il tema della grafica comunicazione multimediale l'altro fronte molto forte è quello invece di acconciatura ed estetica è bene dare anche due numeri per contestualizzare ciò di cui stiamo parlando noi tutti i giorni abbiamo circa 600 ragazzi della fascia dai 14 ai 18 19 anni questa verabilità è data da quanti insuccessi scontano prima di arrivare da noi nei percorsi normali di istruzione a Torino poi ne abbiamo quasi mille a Catania che fanno sostanzialmente la stessa esperienza con delle modalità un po' più soft di inserimento delle entità produttive perché ovviamente è un percorso non può avvenire tutto subito bisogna implementarlo un po' per volta ma stanno facendo la stessa esperienza di affiancamento a maestri manifestazioni laboratori didattici ristorante didattico ecco a proposito di ristorante lunedì conferriamo le corone radiose e i faccini radiosi e il vostro ristorante il ristorante della piazza ha ottenuto la corona radiosa il massimo dei riconoscimenti anche lì perché c'è un maestro cioè il cuoco è veramente uno molto bravo già aveva dei riconoscimenti nel locale dove era prima da noi e si è superato secondo me alla piazza qui merita una sottolineatura che ci ha portato oltre che al vertice del riconoscimento di Papillon che per noi è il fiore all'occhiello ma da quattro anni adesso è presente anche su un riconoscimento che penso di poter citare che è la guida Michelin che diventa un punto di riferimento anche molto internazionale e ci ha aiutato ma soprattutto devo dire che ci ha aperto delle possibilità che prima forse non avevamo perché la conoscenza dello chef che è Maurizio Camilli del suo mondo e dei vari livelli del suo mondo ci ha permesso di orientare l'inserimento dei ragazzi a seconda delle attitudini che loro dimostravano andando in affiancamento a lui e potendo lui cogliere che è uno più idoneo a un certo tipo di inserimento e quindi indirizzarlo correttamente e l'altro un altro tipo di inserimento questo vuol dire che i maestri che scegliamo per i ragazzi non possono essere solo bravi nel loro mestiere devono essere capaci di accoglienza di correzione di durezza quando ci vuole perché il problema non è coccolare i ragazzi ma educarli e saper scoprire anche i talenti e valorizzarli Fabio io direi che possiamo mandare un video un breve video che rappresenta tutto quello che ci ha detto adesso Gianni Clot giusto? Sì andiamo direttamente a vedere proprio il video che ci hanno mandato che raccoglie le emozioni che ci vivono dalla piazza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Fabio qui abbiamo conosciuto e anche questo video ha veramente espresso tutto quello che ci avevi raccontato tu Gianni quali sono gli altri maestri del gusto legati a opere sociali? beh allora è importante quello che dicevamo prima proprio legato anche al termine di maestri voi avrete spiegato una parte di questo termine che è il maestro che insegna ragazzi i maestri del gusto tornando un attimo indietro su quello che è il significato di questa parola sono anzitutto un insieme di gusto quindi il gusto che in questo caso è nato fin dall'inizio come un'analisi un approfondimento su quelle che sono i valori gastronomici di quello che producono e una coté più scientifica che è poi quella che viene garantita dal laboratorio camerale della Camera di Commercio che va a fare questa selezione una selezione che tra altre cose non è fatta una volta poi basta perché poi in realtà questa continuano è un esame continuo viene fatto sempre negli anni questo elenco viene rinnovato Golosaria come tema quello delle botteghe è uno dei temi forti di questa rassegna delle botteghe che hanno acceso anche una luce hanno acceso una luce di speranza in certi momenti in certe zone della città c'è un valore sociale della bottega lo dicevamo appunto lo affronteremo durante questa edizione della rassegna e i maestri del gusto in tanti casi hanno scelto proprio questa strada una delle storie più belle da raccontare è a inizio 2020 ed è quella della pasticceria Capitano Rosso che è una pasticceria simbolo di Torino Capitano Rosso la sua realtà la storia di Gianfranco Rosso è quasi una storia da film la pasticcera nasce negli anni 70 con i genitori lui nel frattempo è un ufficiale della marina mercantile per questo motivo si chiama Capitano Rosso perché nasce come il titolo e la dedica appunto al figlio dieci anni dopo lui decide di abbracciare il mondo del cioccolato fa una produzione anche tra virgolette artistica estrosa di cioccolata si diverte molto con la cioccolata e poi a un certo punto nel 2020 quando decide insomma di lasciare la sua attività fa una cosa bellissima la regala la regala alla Nida che è la nazionale del appunto la nazionale italiana dell'amicizia Onlus questo è il titolo completo e loro in questa maniera lui decide di riaccendere una luce in questa situazione perché con questo progetto nasce Cioccolanida Cioccolanida vuole finanziare quello che è una cittadella dello sport in falchiera per dare modo ai ragazzi con disabilità e soprattutto anche ai ragazzi che sono affetti da malattie rare di poter svolgere lo sport è una storia molto bella che ci hanno raccontato anche in un contributo C'era una volta un'antica cioccolateria di Torino in cui lavorava un vecchio lupo di mare il Capitano Rosso Franco per gli amici dopo aver navigato per tanti anni attraverso tutti i mari di cioccolato da quello fondente al cioccolato al latte quello bianco l'inesplorato cioccolato rosa a un certo punto è deciso di riportare la sua nave fatta di cioccolato in porto e affidarla ai ragazzi della Nida tutto questo per caricarli a bordo e ripartire per un nuovo lungo ed emozionantissimo viaggio in compagnia di tanti piccoli nuovi amici avrete capito perché dovete mangiare il cioccolato della Nida sì è davvero importante per noi il cioccolato buono in tutti i sensi grazie tutti e poi e poi tra queste opere ci sono anche quelle nei carceri perché ne abbiamo conosciute tanti in Italia alcune di queste sono anche a Golosaria Fiera Online e qui con i Maestri del Gusto ne possiamo conoscere un altro sì assolutamente perché anche tra i Maestri del Gusto c'è un'opera che dice nel carcere di Torino e Pausa Caffè Pausa Caffè è diventato un nome mai conosciuto a livello nazionale è stato uno dei primi in Italia a percorrere questa strada il loro operato è su due fronti tra l'altro cosa ancora più interessante da una parte quello che è l'intervento con i detenuti del carcere che quindi vengono reintrodotti alla socialità attraverso proprio la creazione di un mestiere perché appunto Pausa Caffè ha la torrefazione all'interno del carcere l'altra parte altrettanto importante è quella che riguarda l'origine della filiera perché Pausa Caffè agisce anche da questo punto di vista garantendo una giusta remunerazione dei contadini nelle zone da cui arrivano le loro monorigini in particolare Guatemala e Honduras quindi ci sono queste due cote e poi naturalmente a fare la fama di questa appunto di questa attività sono anche i prodotti che sono prodotti di altissima qualità e poi abbiamo ancora almeno un'altra storia che vale la pena raccontare che è quella di più di un gelato in questo caso il fine sociale arriva tramite un cibo di strada è una bella cosa perché il gelato è una delle cose che più circolano e più girano in questo caso parliamo di più di un gelato che lega la sua attività alla cooperativa insieme che appunto si occupa sia poi di bambini sia di anziani e ha anche dato la possibilità di lavoro a più di 15 persone perché oltre al gelato coltiva anche una parte delle materie prime che vengono utilizzate c'è un progetto di filiera interessante dietro tutto questo e appunto di filiera che si lega anche a una serie di prodotti proprio a chilometro avvicinato sul territorio piemontese su questo abbiamo poi un contributo siamo Carla Stilavato e Giorgio Piantino e ci troviamo in assoluto nel nostro posto preferito dove siamo? siamo nella nostra gelateria più di un gelato in Galleria Subalpina angolo piazza Carlo Alberto è luogo dove ogni giorno i nostri massi gelatieri ricreano la magia del prodotto più amato da grandi e piccini il gelato il gelato genuino il gelato veramente artigianale il gelato fatto con grande passione più di un gelato nasce dalla cooperativa insieme perché le cose buone si fanno insieme e non è soltanto un claim romantico e ben riuscito ma è la nostra filosofia di lavoro infatti siamo due imprenditori che da oltre vent'anni lavorano nel settore del sociale e più di un gelato è un progetto ad alta valenza sociale infatti attraverso la produzione di un buon gelato sano e naturale noi garantiamo nuove opportunità di lavoro a ragazzi giovani e meno giovani che magari hanno perso il lavoro a questo momento difficile di grande crisi e hanno necessità di riqualificarsi è un progetto che coinvolge dieci persone circa sono persone giovani persone che stanno imparando e hanno imparato l'arte di fare il gelato e sono seguiti da un grandissimo maestro gelatiere Alfio Tarateta nome di conoscenza nazionale ed internazionale Alfio Tarateta è uno dei ideatori e attuali supervisori della coppa del mondo del gelato ecco perché il nostro gelato è più di un gelato abbiamo voluto investire in un prodotto di eccellenza artigiana costruito prodotto con materie prime provenienti dalla filiera corta del territorio assolutamente di prima qualità il nostro gelato non incontra mai aromi di sintesi conservanti e coloranti è un prodotto di assoluta freschezza e genuinità per quanto riguarda i gusti alla frutta quindi i gelati alla frutta tutta la frutta che noi utilizziamo arriva prevalentemente da cooperative agricole della bassa valle Varaita e il resto della frutta arriva dalla nostra società agricola l'azienda agricola La Manna un'azienda bio completamente gestita da ragazzi che si occupano di seguire il terreno è di seguire il territorio è un'azienda che produce anche nell'ambito della sua filiera produttiva del miele lo squisito miele bio è un'esperienza di cui siamo orgogliosi perché questo ci permette di seguire completamente tutto il processo produttivo con più di un gelato portiamo ogni giorno tradizione freschezza e passione e regaliamo ai nostri clienti una piccola esperienza di felicità bene allora siamo arrivati alla conclusione di questo incontro dove abbiamo conosciuto una parte molto bella dell'artigianato alimentare in questo caso di Torino e provincia con tante situazioni non solo dell'artigianato alimentare perché la piazza dei mestieri ci ha dimostrato anche che i maestri possono essere in vari campi dove ci metti le mani mi facevo una domanda guardando il vostro video ma avete dovuto affrontare anche il tema della sicurezza con la contingenza del covid e come è andata? è stata un'esperienza davvero molto interessante intanzitutto non ci siamo mai fermati se non nell'istante in cui ci è stato imposto di farlo e abbiamo riaperto appena è stato possibile farlo e ci siamo posti da subito il tema della sicurezza anti-covid devo dire che noi abbiamo un grandissimo attu da giocare perché abbiamo degli spazi molto ampi in termini di corte che abbiamo visto nel video e di terrazze che ci hanno consentito di creare un diradamento un distanziamento in maniera veramente agevole abbiamo dovuto impostare come tutti un protocollo di controllo agli accessi di tracciamento delle presenze in vista di possibili ricostruzioni di contatti significativi all'inizio sembrava di correre un po' i centometri con la zavorra ai piedi se posso usare un'espressione perché poi ti guardavi attorno andavi in giro in centro a Torino e non trovavi nulla quindi ti chiedi un po' se sei tu che hai interpretato male o sei l'atteggiamento generale allora si è rivelato invece un aspetto fondamentale perché nel tempo nel riproporsi di alcune problematiche lo stiamo vedendo molto in questi giorni dove si parla di una seconda fase di una racchiudascienza la percezione di andare in un luogo sicuro sta premiando tantissimo per cui il pub innanzitutto perché è più facile perché è fatto di un target di persone più giovani ma moltissimo anche il ristorante ha ritrovato una vivacità di presenza grazie proprio al fatto che la percezione di andare in un luogo sicuro beh allora io direi che possiamo chiudere questo incontro se ce lo permette il dottor Gianni Clot assaggiando una di queste birre pluripremiate anche perché la birra ha un abbinamento ecumenico con i cibi va molto bene non solo con i piatti ma proprio col prodotto con i formaggi con i salui e anche col cioccolato e noi vogliamo farla qui in diretta questa prova eccoci con una birra la chellerina che ha ricevuto dei premi dicevi oltre che per il prodotto anche per l'etichetta beh allora io l'abbino con una pralina che secondo me ha un contenuto di cacao molto importante potete farlo anche voi molto volentieri e faccio la prova della degustazione proviamo eh sì ci sta ci sta e come vero Fabio sì sì assolutamente proprio armonia tra cioccolato e birra complimenti bellissima esperienza che sarà raccontata anche a Golosaria Fiera Online in uno degli stand che vi invito ad andare a visitare grazie grazie a Gianni Crotta e a tutti gli amici della piazza dei mestieri grazie a Fabio Molinari grazie a voi due grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.